La mostra si chiama Nuove forme e colori del vuoto, dove il muove è un po' ironico perché effettivamente sono delle invenzioni, però noi siamo comunque, sono molti anni che lavoriamo su questi oggetti, però per la mostra presentiamo anche delle novità, chiamiamole così, delle ulteriori elaborazioni della ricerca formale che appunto è stata fatta in questi anni con questi oggetti e Nuove forme e colori del vuoto è riferito anche a una frase dell'artista Georges Braque, che abbiamo utilizzato anche in diverse occasioni pubblicazioni, è la frase e Braque dice il vaso dà una forma al vuoto come la musica al silenzio. Questa sorta di di minimalismo, di riduzione, per noi è stato anche importante nella ricerca perché poi come si vedrà negli oggetti, nella mostra, questi oggetti si basano su delle forme semplici, forme geometriche, la sfera, il cono. In materiali diversi, sono praticamente, sono forme molto semplici, realizzati in geramica, in metallo, argentato, anche dorato in certi casi e in vetro. Questa cosa ci piaceva molto, di vedere l'oggetto, anzi la forma uguale, però in una materializzazione diversa. Era anche importante lavorare con gli artigiani. Lì io ho approfittato un po' di, diciamo, dei contatti che ho per oggetti che realizzo per i miei progetti di architettura, tipo un lampadario che ho fatto per un spa, per un aman, dove abbiamo tutto realizzato su disegno e ho lavorato con un ragazzo molto bravo. La stessa cosa per la geramica e anche per il metallo. Questo lavoro sui materiali, diciamo, per noi è un tema, non è solo un tema di design, ma anche un tema, diciamo, estetico. Infatti, per noi la materia di questi oggetti è intesa appunto come materia poetica, perché il fatto di ridurre già i materiali a uno solo, questi oggetti sono monomaterici e questo ne fa già un po' delle sculture. Questo rapporto tra forma e materia, secondo noi, nei casi, noi pensiamo di esserci riusciti, io penso che ci siamo riusciti in molti casi, la materia diventa oggetto poetico. Faccio queste considerazioni perché il lavoro del design, soprattutto con l'industria, è un po' meno poetico, è un po' più pratico, funzionale e ovviamente anche c'è un tema di economia. Da qui discende anche un'altra categoria di questo lavoro che noi abbiamo definito come indipendenza. Questi oggetti sono liberi, vivono da soli, possono vivere da soli in uno spazio, possono anche non essere usati, sono quasi tutti vasi da fiori, però non necessariamente vanno messi, devono essere messi dei fiori all'interno di questi oggetti. Quindi gli oggetti sono indipendenti, ma anche chi li progetta è indipendente perché ci siamo voluti svincolare dal sistema dell'industria, che è un sistema molto complesso e che spesso non lascia sufficiente autonomia al progettista. E questo è stato un po' un filone di pensiero iniziato nel design italiano già negli anni 80, alchimia con cui noi abbiamo avuto diversi rapporti di collaborazione e poi il fenomeno mainfris che è esploso. Però questa ricerca che abbiamo portato avanti è svincolata anche da questi movimenti, perché ripeto il tema era quello di creare degli oggetti senza tempo che non avessero una scadenza. Sono progettista, ho scritto anch'io per tanti anni, ho lavorato come giornalista, e scrivo ancora su certi temi, chiaramente sempre nel mio campo architettura e design. Però io sono più pratica, sono anche io quella che poi va nelle officine con gli artigiani, lavoro direttamente, seguo la realizzazione e Stefano è più quello che ha un po' ideato questi oggetti. C'è per esempio il V, che per me è una forma totalmente nuova per un vaso di fiori. Racconta anche storie diciamo un po' simboliche, come questo segno qua e altro, una cosa abbastanza particolare. Poi questi vasi che sono composizioni di coni, sono cirevoli, quindi l'idea del cirevole diciamo, il pensiero è nato da Stefano, poi la realizzazione con gli artigiani per riuscire a realizzare questi oggetti che hanno delle, diciamo, disegni semplicissime, però poi per la realizzazione creano anche dei problemi interessanti, devo dire, perché per esempio nella ceramica non c'è un, normalmente c'è un fondo dove si può appoggiare un oggetto nel forno, qui abbiamo dovuto creare tutto un sistema per metterli nel forno perché non hanno la base, ce l'hanno in mezzo oppure un po' più in alto. Io, diciamo, ho ideato questi oggetti, li ho disegnati, poi ci siamo forse un po', ci siamo alternati nel seguire tecnicamente i pezzi, per esempio tutta la parte in vetro è stata sviluppata completamente da gabbia, appunto, con questi artigiani molto bravi che hanno studiato a Murano, anche se lavorano in Svizzera, quindi hanno proprio un'esperienza da vetrai in Muganese, tutti gli effetti, e anche il discorso della ceramica. Io mi sono un po' più mosso sul discorso del metallo. Allora, l'idea di invenzione per questi oggetti è un po' quel punto di contatto tra il design e, non so come chiamarla, arte o scultura, come volete chiamarla. Ci siamo detti anche più di una volta che la fortuna di questi oggetti, il loro rimanere nel tempo e il loro continuare ad essere prodotti, anche se in piccole, piccolissime serie, sta nel fatto di stare un po' a metà tra l'oggetto di design e una piccola struttura. Cosa c'è di design in questi pezzi, oltre a tutto il lavoro di sviluppo, anche con gli artigiani di cui abbiamo parlato? Uno spunto funzionale. Quando abbiamo, quando io ho pensato tanti anni fa di fare dei lasi da fiori, uno perché mi piacciono i fiori, e anche a Gabi piacciono molto i fiori, e l'altro perché questa tipologia poteva funzionare bene perché riduceva anche la complessità dell'oggetto stesso. L'invenzione sta nel pensare a come i fiori vengono disposti, normalmente un vaso da fiori è un contenitore che basta per quanto bello, decorato, artistico, eccetera. In questo caso invece sono nate una serie di tipologie. Una è quella del vaso reversibile, chiamato così. Diverse di questi vasi possono essere capovolti con sfera e altri, e quindi si possono creare composizioni diverse a seconda della parte del vaso che viene usata. Oppure in un caso cambia la forma, ma il vaso rimane sempre lo stesso. L'altro, uno ne abbiamo parlato, è la V, dove si possono disporre due piccoli mazzi di fiori nello stesso vaso. E poi c'è la spirale. La spirale è l'oggetto forse più complesso tra quelli che abbiamo realizzato negli anni. È stato realizzato prima in metallo e poi in ceramica, in vetro, e di là da venire la soluzione tecnica per realizzarlo, anche se ci abbiamo lavorato. La spirale è nata dall'idea di poter disporre dei fiori lungo il perimetro, anzi la circonferenza, del vaso su diverse altezze. Ma la spirale è anche, come si sa, un simbolo di iniziazione. Diciamo, la semplicità formale di questi oggetti ha a che fare con un atteggiamento un po', possiamo chiamarlo, di meditazione. Cioè questi oggetti sono anche, secondo me, molto rilassanti, con la loro semplicità formale, non richiedono un'eccessiva educazione estetica. Si possono godere anche semplicemente guardando. E la spirale, che è la forma più articolata tra tutti questi oggetti, è un po' un percorso circolare, come spesso avviene anche nella vita. Quindi si parte da un lato e si ritorna al centro. La complessità dell'oggetto è una complessità tecnica. Per esempio, nel caso della ceramica, nel caso del metallo, è più facile perché lo spessore del metallo, ovviamente, è molto più sottile. Nel caso della ceramica è necessario uno spessore, ovviamente, maggiore. E questo ha comportato dei problemi tecnici che sono stati risolti molto bene dagli artigiani. e i primi pezzi, le prime spirali sono degli anni 90. Adesso ci sarà modo di tornare a farne in modo delle altre. Perché facciamo questa mostra? Una ragione è che, da qualche tempo, io pubblico anche una rivista. Dopo aver lasciato la rivista Domus, dove sono stato vice direttore per più di dieci anni, attraversando varie direzioni e vari momenti culturali, e siccome fare rivista è una malattia incurabile, ho pensato bene di fare una nuova rivista. Questa rivista si chiama Disegno, una nuova cultura industriale e il presupposto è che, comunque, anche in questi tempi nostri, molto turbolenti, ci sia, comunque, per l'industria un nuovo livello di sviluppo della cultura in generale, che poi è quello di base della cultura materiale degli oggetti. Partendo quindi da questa idea, ho sviluppato la rivista Disegno e, a un certo punto, in questo percorso di collaborazione con alcune industrie che la sostengono, che l'hanno sostenuta, ci siamo incontrati con Andrea Margaritelli. È nata una collaborazione molto interessante, sono usciti dei miei testi sulla rivista e, quando poi è nato lo Spazio Arena, Andrea, molto gentilmente, mi ha invitato a realizzare una mostra. e io ho pensato, ovviamente, subito a questo lavoro sugli oggetti sviluppato con le edizioni che portano il nome di Gami e perché è un po' il fulcro, il nucleo anche della mia ricerca di progetto da cui poi sono nati altri oggetti. Questi oggetti hanno scritto anche diversi autori, ne ha scritto Alessandro Mendini, ne ha scritto Massimo Minini, che è l'autore del testo che compare in mostra, e altri autori. e la cosa bella è che questi diversi autori hanno insistito sulla dimensione estetica di questi oggetti. Nell'arco di tanti anni, qualche decennio ormai, questi oggetti sono stati esposti in diverse mostre, a Louisiana, al Museum di Copenhagen, al Museo des Arts Décoratifs di Ghand, saranno di nuovo esposti, sono stati esposti in Corea, una mostra dedicata appunto all'artigianato artistico, dove vari paesi avevano un padiglione, la Svizzera aveva un padiglione, questi oggetti sono, Gabi è stata invitata ad esporre gli oggetti in questa mostra e dopo la mostra dello spazio Arena ce ne saranno delle altre, sia in Svizzera che in Italia. Il discorso del colore è nato con la geramica negli anni 90, pensando a queste forme geometriche molto semplici, abbiamo deciso di usare anche colori primari, diciamo. C'era il giallo, il blu, quasi un blu clime e l'arancio. Perché a me non piaceva il rosso. Si, e il bianco. Poi abbiamo deciso, anzi si era chiaro dall'inizio, diciamo che questi vasi sono limitati, numerati e firmati. Così adesso negli ultimi anni, nella geramica, abbiamo cercato di fare una nuova collezione di colori, perché quella degli anni 90 è tutto esaurito, tutto venduto. Molti stanno nel Hyatt a Berlino, nelle Suites, un hotel. Nell'albergo, si, e negli altri, nelle collezioni di musei. Questo per la ceramica. Poi lavorando con il vetro, il colore ha preso tutta un'altra dimensione, una dimensione nuova, anche perché con il vetro potevo giocare con il vetro colorato, però trasparente, oppure il vetro battuto, il vetro opaco. Quindi, oltre di lavorare con materiali diversi, ho lavorato anche con superfici diversi, che ha aperto delle possibilità molto interessanti. E quindi qual è il futuro per questi oggetti, per questa ricerca, per questo lavoro? Secondo me parte da una parola che è il desiderio. Inizialmente, prima di tutto, il desiderio mio di Gabby di creare degli oggetti mobili che piacessero a noi, ma che piacessero anche alle persone. Il lavoro, diversamente da una certa ricerca artistica fino a se stessa, il lavoro sugli oggetti implica comunque un utilizzatore. E noi, questo utilizzatore, abbiamo pensato potesse divertirsi a usare queste forme, a cambiare la forma del vaso, capovolgendolo, ad allestire, ad allestirsi i suoi fiori, la sua composizione floreale con delle possibilità diverse. L'altro desiderio, abbiamo già detto, è quello di svincolarsi dagli obblighi dell'industria, del mercato, eccetera, eccetera, e di avere una nostra linea di ricerca che non si interrompesse. Questo ha permesso di andare avanti negli anni, di fare anche esperienze individuali. Come abbiamo detto, io ho realizzato anche diverse mostre. Una personale molto importante nel 2003 alla Fondazione Danese, che era una bellissima azienda inventata e portata avanti da Bruno Danese, Giacomo Lodot, che in qualche modo sono stati anche un po' degli ispiratori. le edizioni danese sono state le più interessanti, le più varie, spaziano anche lì tra arte e design. Quindi tornando al mio lavoro, al nostro lavoro, questo desiderio continua, rimane vivo. Pensiamo a delle altre... Penso, io penso, anche Gabi lavora su delle rielaborazioni, c'è un nuovo oggetto che sarà in mostra. L'intenzione è quella di mantenere vivo questo desiderio. Quindi i visitatori della mostra potranno, speriamo, spero, desiderare questi oggetti, non necessariamente per acquistarli, ma comunque metterli nel mondo dei loro desideri e speriamo di creare di nuovi andando avanti in questa ricerca che per noi è comunque molto importante. Io andrò avanti a lavorare con materiali vari, come ultimamente ho fatto, anzi ho realizzato, vari oggetti in cemento. Allora sto lavorando con un'officina dove in futuro quindi certi oggetti saranno anche realizzati in cemento che da tutto un'altra... Un'altra plasticità e anche per metà. Un'altra plasticità, un'altra... di nuovo un altro carattere a questi oggetti. E quelli purtroppo in questa mostra non si... non sono ancora pronti ma in aprile per il salone dovrebbe esserci. Quindi il futuro e anche altri materiali e altre funzionalità, altre dimensioni, credo, spero. di nuovo un altro carattere a tutti i nostri amici. Allora! 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 Ma seconda parte victoria! Allora! ... Let's go! Let's go! Allora!